salve a tutti voglio proporvi oggi un'altra bella radio transistor sempre del 1963 anche questa forma di mappa mondo prodotta dalla fleetwood giapponese questa era composta di plastica e di bacchalite quindi due materiali di gamma d'onda volume e accensione e ricerca delle stazioni anche questa radio come di solito nel radio transistor degli anni 60 è considerata una radio novelty cioè l'inserimento di un'apparecchiatura radio dentro ad un oggetto che richiama invece un'altra qualcos'altro quindi le radio novelty sono state molto importanti da questo punto di vista in questi anni perché venivano associate ad un oggetto che in realtà esisteva la piccola automobile i punti mappa mondi poi c'erano le lampade si potevano mettere un po dappertutto queste radio perché erano miniaturizzate quindi questa è una radio novelty questa radio come vedete è caduta quindi sia un po deteriorata purtroppo non ho trovata una meglio spero di trovarla comunque che così ha il suo valore in ogni casa di un collezionista non può mancare questa radio arrivederci alla prossima radio ciao 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 ciao